Preoccupazione del Presidente della Regione Siciliana sulla situazione migranti a Pantelleria. Nello Musumeci, a proposito di questo, afferma anche a Pantelleria emergenza, il centro di prima coglienza è sovraffollato. La struttura ha una capienza di 28 posti, ma attualmente sono presenti 183 migranti di nozionalità tunisina sbarcati negli ultimi giorni. Alcuni risulterebbero pure positivi al Covid. La vigilanza e il mantenimento dell'ordine pubblico sono affidati ai carabinieri e ai militari e alla guardia di finanza, normalmente in servizio sull'isola, che devono continuare a occuparsi anche di altro. La prefettura fa tutto il possibile, ma servono iniziative di governo. Mi appello al ministro all'interno Lamorgese affinché in quest'isola possa essere destinato un reparto mobile della polizia, come avviene all'hotspot di Lampedusa. Una situazione che il presidente della regione rimarca, chiedendo l'intervento del governo nazionale, a supporto delle criticità verificatisi. Anche a Pantelleria, aggiunge il governatore, si vive sul fronte ai migranti una situazione critica e di disagio. La presenza di unità della polizia di Stato garantirebbe maggiore sicurezza, permettendo di controllare meglio le entrate e le uscite al centro di accoglienza, e garantirebbe i trasferimenti con scorta dei migranti. Roma, ha concluso Musumeci, deve dare risposte anche a quest'altro avamposto dell'Italia e del Mediterraneo. Un'altra frontiera è lo Stato italiano che, al pari di Lampedusa, non può essere lasciata sola nella gestione dei flussi migratori.